Purtroppo non stavo registrando l'audio Eri, aprivo un pacchetto E... Ecco Mamma mia Quindi Peccato Peccato che l'audio del Game Capture era spento Perché io in teoria stavo prendo pacchetti di rente a caso E niente E questo è il risultato Dopo tante bestemmie Tanti pacchetti buttati E' arrivato lui E' arrivato CR7 Poi tra l'altro anche Diego Costa E' arrivato tutti in un pack Quindi Lo vedrete negli squad builder dei mondiali Che vi anticipo già che ci saranno E niente Mi farà comunque piacere Farvelo vedere anche senza live reaction Quindi magari diteci nei suoi commenti Se volete una review o no E niente Noi ci sentiamo in un prossimo video Bye bye